Cari amiche, cari amici di Rossini TV, bentornati al nostro appuntamento alla scoperta della Onlus Gulliver. Siamo effettivamente in casa della Onlus Gulliver e qui ci troviamo in uno spazio particolare che si chiama Social Food. Accanto a me c'è Valeria Gianni. Buongiorno. Buongiorno Valeria, bentornata per raccontarci la vostra attività e qui oggi lo facciamo proprio nel posto in cui questa attività si svolge. Dove siamo Valeria? Buongiorno a tutti inizialmente. Allora qui siamo nel reparto cibo della nostra sede di via Toscana 111 dove praticamente nasce tutto quello che in teoria abbiamo detto nelle puntate precedenti. Questa è una piccola sfumatura di quel quadro famoso. È molto importante perché ha un insieme di sfaccettature che guardando nel singolo concetto dà molto il senso di quello che noi facciamo come volontari e come rispetto per le altre persone. Allora praticamente tramite la legge Gadda che è una legge che fece un onorevole praticamente riusciamo a fare il recupero alimentare perché? Perché negli alimenti che noi vediamo nei supermercati o nei negozi alcuni recano scadenza con la data definita. Altri hanno scritto preferibilmente da consumarsi preferibilmente entro il che possono essere sei mesi, un anno. Cosa vuol dire che quell'alimento lì se uno lo mangia non fa male al fisico ma si può continuare a mangiarlo nel tempo fino all'ultima scadenza. Questa legge ha dato la possibilità di fare recupero alimentare pensando alle persone povere quindi cedere questi alimenti dopo aver fatto la raccolta alle persone bisognose quindi dare anche loro una dignità e eliminare le ineguaglianze che ci sono fra la gente ma comunque aiutare proprio chi ha esigenze economiche che entro la fine del mese non riesce a sostenere la propria famiglia. Ti chiedo subito quante sono queste famiglie, quanti sono queste persone che fanno capo a voi? Allora noi oggi come oggi seguiamo 400 famiglie, 400 nuclei familiari. Loro hanno la possibilità di venire due volte al mese a prendere il pacco alimentare che possono gestire nell'arco del mese stesso, possono venire due volte alla settimana, quando vogliono, però due prese alimentari per ogni famiglia. L'importante è che abbiano un'ISE inferiore agli 8000 perché noi comunque abbiamo delle schede anche per rispetto delle persone quindi le famiglie che hanno un'ISE inferiore agli 8000 euro vengono qua, ci danno i documenti, noi li registriamo e loro possono prendere questi pacchi alimentari che a seconda di quello che noi abbiamo possono essere più abbondanti, ma comunque cerchiamo sempre di accontentare tutti. Un'altra cosa è che possono essere segnalati dalla Caritas, dal comune, dalle parrocchie. Abbiamo fatto anche un aiuto e abbiamo dato sostegno agli ucraini che arrivavano in Italia in seguito alla guerra. In questo caso qui ovviamente l'ISE non esiste ma ci danno un tagliandino di rifugiato perché noi siamo anche in contatto con l'acquistura e quindi sappiamo le scadenze, sappiamo, teniamo un po' monitorati tutti perché la raccolta alimentare viene fatta sia dai supermercati che abbiamo una convenzione, anzi invito a chi non ha ancora aderito a chiamarci perché per noi è fondamentale, è veramente fondamentale. Poi lo farò anche raccontare dai nostri collaboratori che ogni giorno la distribuzione facendole al pomeriggio ogni giorno schedano, parlano, accolgono e arriva tanta gente nuova e siamo in continua crescita. E oltre agli alimentari, ai conad o ai supermercati abbiamo anche la distribuzione con la FEAD e il Banco Alimentare, il Banco Alimentare nazionale segue tutta la povertà, le mense e quant'altro e quindi siamo proprio monitorati, noi abbiamo un carico e uno scarico perché anche la comunità europea vuol sapere come vengono gestiti questi alimenti ed è fondamentale perché oltre al recupero degli alimenti che è esagerato come spreco quindi noi riusciamo a dare destinazione a questi prodotti, facciamo gruppo e quindi riusciamo insomma a soddisfare questa esigenza perché siamo nel 2024 e le persone molte volte non riescono arrivare alla fine del mese e invece di mangiare il riso scotto vengono qua e trovano tutto quello che abbiamo. Anche perché vedo che di cose ce ne sono tante, dalla pasta al non solo confetture, pomodoro, passata di pomodoro, addirittura anche uova di Pasqua perché ci vuole anche quello, anche quello è un qualcosa che serve ad accrescere il piacere poi di poter condividere in momenti positivi e anche una parte di fresco dentro ai frigoriferi. Sì, perché comunque le mozzarella che scadono fra due o tre giorni, che magari i supermercati devono rinnovare il banco di vendita, dove vengono buttati e noi avendo i nuclei familiari che tutti i pomeriggi vengono qui anche di tre, quattro, cinque persone, sono tante quindi piano piano riusciamo ad accontentare tutti e quindi anche questo reparto qui per noi è dignità e quindi lavoriamo sempre con i volontari e ritorna sempre quel senso di sociale che noi vorremmo far conoscere al cittadino pesarese e dare veramente l'emozione e l'energia che ogni giorno mettiamo qua. e ritorno sempre col dire che grazie a quella donazione famosa del cittadino che viene qui e cerca di aiutarci a fare economia, riusciamo anche ad avere questo contorno qua, perché comunque il furgone parte, va, abbiamo anche delle spese, quindi tutto gira su quel famoso dono che è il cittadino pesarese continua a darci, sempre il grazie va al comune che ci ha aiutato 13 anni fa ad aprire questo mondo e io sono qui oggi come nelle puntate precedenti per chi le ha viste, perché voglio che il pesarese, che il cittadino, che tutti sappiano che qui c'è un mondo diverso, il famoso mercatino dell'usato, qui non è, qui è Gulliver, progetto del riuso, dove comunque ci sono tante sfumature, tante energie, gente che arriva nuova, che se ne va, che ritorna e quindi è tutto un mondo speciale. Un vero e proprio punto di riferimento davvero per la città, per tante situazioni difficili, per tante situazioni che trovano una soluzione. Adesso andremo a conoscere le persone, le persone che animano questo comparto particolare di Gulliver dedicato all'alimentazione, quindi ci spostiamo e andremo a conoscere in primo luogo una persona davvero straordinaria, che è quella che gestisce tutto ciò che vedete alle nostre spalle. E siamo in postazione con Michael Calcinari. Ciao Michael. Buongiorno a tutti. Da dove arriva questo nome Michael? Non lo so, vogliamo chiederlo ai miei genitori perché mi hanno chiamato così. Però è bello Michael, è un nome molto affascinante. Ed è un nome affascinante che peraltro qui all'interno di Gulliver si ripercuote in una funzione importantissima la tua, perché tu hai sotto controllo quello che riguarda il reparto alimentare. Come lavori Michael? Allora, io lavoro qui tre pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 19. Sono quattro ore in cui mi occupo della distribuzione dei pacchi alimentari di chi ne ha bisogno. Quindi le persone arrivano qui, si rivolgono a te per sapere quello che possono prendere, giusto? Per prenderlo hanno dovere di portare l'ISE e la carta, insomma gli effetti personali per verificare che appunto, come diceva Valeria, l'ISE non superi gli 8 mila euro annuali. E poi ci sono situazioni da gestire perché chiaramente possono cambiare le cose quindi tu tieni sotto controllo tutto. Se volete posso farvi una schermata generale, qui abbiamo tre cartelle, le più importanti sono questa che è AZ, che è l'elenco delle persone dell'Ucraina. In una c'è l'elenco solo di persone ucraine, l'altra è AZ, cioè generale, dove è multinazionalità diciamo. E questa qui sulla sinistra è il foglio nuovo che viene aperto da me ogni qualvolta c'è da fare una registrazione di un nuovo individuo. Di un nuovo individuo oppure gruppo familiare così. Ma senti, tutta questa roba che c'è qui dentro, tu si può dire che sai perfettamente quante sono le pacche di pasta, il riso, hai un po' tutto sotto controllo. Sì, proprio venerdì è arrivata la presa alimentare mensile, io sono arrivato prima, abbiamo sistemato un po' tutto quello che c'era da sistemare e poi abbiamo preso servizio e alle sette ognuno è andato a casa loro, a casa propria. Certo, a vedere le partite di calcio, hai accenduto la tv a guardare le partite, confessa, tu sei un grande appassionato di calcio. Sì, a vari gradi diciamo, perché sono sia juventino, e questo non lo volevamo dire. Non è un bel periodo però va bene. E poi sono dirigente, cioè direttore sportivo, anche nella squadra di calciotto Fuzz al Pesaro di Daniele Rugnoli. Grande Michael, e oltretutto sei un tifoso della Vis Pesaro, quindi hai gioito qualche tempo fa per la permanenza della Vis in Serie C. Sì, prima di quest'anno non seguivo molto la Vis, però quest'anno sono andato sei o sette volte, credo, con amici e credo che l'anno prossimo farò l'abbonamento. Grande, quindi io direi, facciamo anche un appello alla Vis Pesaro. Michael è un grandissimo tifoso della Vis Pesaro. In ogni caso, quindi, facciamo una squadra più forte perché non vogliamo soffrire come quest'anno, Michael. No, ci vuole il cuore buono per assistere a imprese come quella della Vis di qualche settimana fa. Però mi sa che ci vuole il cuore buono anche per stare qui, vero, Michael? Si vuole, sì, anche perché molte volte non nascondo che si perde la pazienza perché… È difficile tenere proprio così tutto in mano, no? È difficile. Poi anche magari chi viene qui ha i suoi problemi, ma anche noi abbiamo le nostre giornate storte, e quindi una cosa che ti farebbe… anche una cosa piccola può diventare… Grande, certo. Fonte di arrabbiature, si può dire? Sì, si può dire, arrabbiature, sì, hai usato la parola giusta. Bravo, Michael, grazie davvero per averci illustrato la gestione che fai di questo luogo. Grazie davvero. Grazie a voi. Emiliana Angeletti, un'altra volontaria qui presente nel reparto social food di Gulliver, in realtà tu sei una volontaria che, lo dicevamo prima fuori onda, sei arrivata qui per caso, ma non proprio per caso, in realtà c'è stato un momento della tua vita nella quale hai avuto bisogno. Esatto, intanto buongiorno, allora inizialmente io sono arrivata qui due o tre anni fa come fruitrice, come utente, avendo qui una situazione economica non splendida comunque, va bene, dignitosa lo stesso, però il mio uso era sotto gli 8 mila euro, quindi potevo usufruire di questa iniziativa meravigliosa che infatti mi ha aiutato moltissimo. Poi nel tempo, conoscendo anche le persone, avendo anche delle amiche all'interno che svolgono questo lavoro da anni, mi è venuto proprio spontanea, la voglia, quasi la necessità di partecipare come protagonista, cioè come volontaria in questo caso e mi hanno assegnato al Banco Alimentare. A parte che premetto che tutto il gruppo della Gulliver sono persone eccezionali, quindi mi sarei trovata bene comunque in ogni angolo di questo posto, ma qui dentro in particolare hai la possibilità, come diceva anche Marina, come diceva Michael, di avere a che fare con, diciamo, un bacino di utenza, detto così è brutto, con persone provenienti da tutte le parti del mondo, accomunate da questa cosa di necessità come ho avuto io, come ho tuttora, infatti tuttora io prendo il mio pacco alimentare due volte al mese. Quindi c'è una doppia funzione proprio, quella di fruitrice e anche di operatrice. Di operatrice, tutte le volte che prendo il pacco Michael segna dettagliatamente quello che prendo. Michael è tosto. Michael è tosto. Però sì, il piacere di avere comunque a che fare con persone di culture, di lingue diverse, di esperienze diverse, provenienti da appunto quasi, non dico tutto il mondo, ma sì praticamente di tutto il mondo, arricchisce. Arricchisce perché ti fa pensare che non sei tu, solo tu nell'universo, ma ci sono tanti modi di vedere la vita, di pensare, di parlare, di rapportarsi, eccetera. In più, come diceva anche Marina, ascoltarli, dire quella parola in più, salutarli nella loro lingua, vanno via gioiosi, come ha fatto piacere a me le prime volte, mi sembra che la prima volta proprio c'era Marina, quando io sono arrivata qui come utente, e ha fatto piacere trovare una condizione familiare. Questa apertura. Questa apertura, sì. Ti senti in famiglia, ecco. Marina, hai utilizzato peraltro un, o meglio, hai sintetizzato un concetto importantissimo, quello dell'apertura appunto, cioè non siamo solo noi. Certo. Ma il mondo è molto ampio, molto spesso anche nelle realtà di provincia, qual è la nostra, tendiamo un po' a chiuderci. A chiuderci. Pesaro, 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 ma in realtà Pesaro è un granello di sabbia in una spiaggia enorme. C'è questa sensazione anche vivendo alla Gulliver. Sì, sì, come no, certo. Ti senti parte appunto del tutto, del tutto intendo proprio del tutto anche a livello di universo, cioè non soltanto noi sulla terra, uomini padroni di tutto. Cioè da qui capisci appunto che c'è bisogno di condividere, di arrivare a quella consapevolezza appunto in cui tu non sei solo ma siamo tutti insieme, tutti diversi, perché non è vero che siamo tutti uguali, siamo tutti diversi e questa cosa fa crescere molto. Bravissima, tutti diversi e ognuno con la propria caratteristica e peculiarità. Grazie Emiliana. Prego, grazie a voi. Marina Patrignani, volontaria, presente in Gulliver. Da quanto tempo, Marina? Buongiorno intanto. Buongiorno, giustamente. Allora, io sono arrivata qui circa quattro anni fa, fine 2020 o inizio 2021, di preciso non ricordo. Comunque andando in pensione, io ero insegnante nella scuola media e ho deciso che un po' del mio tempo volevo impegnarlo in questo modo e quindi mi sono, sapevo della Gulliver, ovviamente la Gulliver era già una realtà che io conoscevo e ho chiesto se potevo dare una mano. E ovviamente ti hanno detto di sì. E quindi mi hanno detto di sì e sono quasi subito entrata in questo gruppo del cibo e penso di essere stata fortunata perché qui si ha il contatto con tante persone, con tante realtà e quindi il cuore si riempie spesso di emozioni. Ecco, hai detto una cosa molto importante, hai il polso in pratica di quello che succede anche con chi ha difficoltà e con chi vive magari situazioni difficili, che grazie a un'organizzazione come questa trovano delle soluzioni. Assolutamente, io anche insegnando a scuola ovviamente ho vissuto tante realtà, però qui a volte veramente è molto emozionante perché arrivano nuclei familiari molto numerosi, nuclei familiari molto dignitosi, arrivano persone che magari dicono ah no, non sono più venuto perché non avevo bisogno, però adesso mi ritrovo nella necessità di. quindi arriva un po' di tutto sinceramente, però io mi sento spesso, mi emoziono con queste persone perché poi noto che il parlare con loro, cioè per loro venire qui è non solo prendere cibo ma anche avere un contatto con qualche umano, con delle persone e quindi avere la possibilità magari di raccontare la loro situazione. Noi spesso abbiamo una bella fila lunga fuori, quindi non abbiamo neanche tantissimo tempo, però penso che la comunicazione con queste persone è una cosa che veramente dà tanto a me. La relazione, pensate magari famiglie che fuggono dalla guerra, come abbiamo visto insieme a Michael, quindi famiglie ucraine che vengono da situazioni disastrose, arrivano nella nostra città, non sanno cosa fare, magari non sanno come mangiare e qui trovano invece l'accoglienza. Esatto, esatto e alla domanda come va, molte volte mi sarei voluta rimangiare queste parole perché alla domanda come va magari scatta la lacrimuccia o comunque scatta il racconto e capisci che quello che senti in televisione o che leggi nei giornali lo tocchi con mano. Non è facile, per me non è facile, è sempre una bella emozione. È comunque un gran piacere poi poter dire, poter contribuire alla loro, diciamo, leggero benessere con il pacco alimentare. Certo, proprio la parola accoglienza. Poi Marina, tu sei stata anche di recente in Myanmar, hai fatto l'esperienza con Ivan che noi abbiamo conosciuto nella prima puntata del nostro format, lui gestisce Rainbow, questa associazione che è molto attiva nel Myanmar, anche a livello dell'insegnamento. Infatti tu hai portato la tua esperienza proprio nell'insegnare sia l'inglese che l'educazione fisica ai ragazzi e ai bambini del Myanmar. Esatto, sì, diciamo che la mia intenzione era solamente di portare del materiale per questi bambini, per palloni e attrezzi vari. Quando sono stata lì, veramente i bambini mi hanno accalappiato e quando è stato il giorno prima della mia partenza, io ho guardato Ivan negli occhi e gli ho detto, io Ivan non sono pronta per partire. Posso rimanere? E lui mi ha detto, certo. E quindi da lì è iniziata una collaborazione un pochettino più fattiva, quindi ho lavorato con i bambini nel senso che abbiamo fatto i giochi insieme, abbiamo fatto degli esercizi ginnici insieme, abbiamo stabilito una routine mattiniera, mattutina di esercizi ginnici, abbiamo fatto il bagno nel fiume insieme, insomma abbiamo veramente fatto tanto con questi bambini che sono meravigliosi. Marina, grazie per la tua testimonianza, davvero c'è tanto bisogno di queste cose, grazie. Grazie mille. Flora De Pasquale, benvenuta. Buongiorno. Il nome è sulla maglietta. Ovviamente. Nome importante. Bellissimo anche Flora, un bellissimo nome. Abbiamo affrontato tanti argomenti già con le tue colleghe, prima di cominciare la registrazione avevi utilizzato anche tu una metafora molto bella, dare per ricevere. Tu qui dai, ma ricevi anche tanto alla Gulliver. Sì, dare per ricevere perché si riceve di più e io lo sto provando proprio tutti i giorni, tutte le volte che vengo qui ed è una sensazione strana e bella. E io dico sempre sono egoista perché aiuto per poter io ricevere un aiuto. sembra pazzesco, sembra strano, ma queste persone aiutano me. È così. La cosa è così. È un concetto ovviamente di egoismo positivo. Sì. Nel senso che si fa del bene e si riceve del bene e si sta bene. Ma si sta da Dio. Si sta decisamente bene perché quando pensi che tu sei così fortunata, tra virgolette, e poi ti guardi intorno e vedi veramente delle realtà che non avevi mai visto, perché io non le avevo mai viste queste realtà, e allora riesci anche a conviverci. Io non avrei neanche mai pensato di poter affrontare una cosa di questo genere, perché proprio la schivavo. Invece così io la sto non solo affrontando, ma mi piace. Sto riscoprendo un lato di me che non avevo. O meglio che forse non sapevi di avere. Ma non sapevo neanche di avere. Oddio, non mi interessava. Forse non ti toccava. Non mi toccava perché vengo anche da un ambiente completamente diverso. Sono stata catapultata qua grazie a un sogno. Quindi è stata tutta una cosa strana, questa cosa strana. Gulliver per me è stata una cosa strana. E nello stesso tempo, beh, la magica. Ci fai pensare a una cosa, questo discorso del non sapere. Finché le cose non si sanno, non si conoscono, non si possono neanche immaginare. Ma poi quando invece ne abbiamo consapevolezza, perché incontriamo le persone che le vivono, cambia tutto. Sì, sì, sì. Cambia proprio tutto. Non so come dire. Egoisticamente uno dice, ma a me cosa mi interessa? Ma sarà vero, non sarà vero? Ma è vero che hanno questo, non hanno quell'altro? Poi tocchi con mano. Allora quando tocchi con mano la realtà, la realtà la vivi. La vivi. E devo dire che Gulliver a me sta veramente, mi sta emozionando e mi sta anche facendo capire che c'è un luogo dove una persona si può rifugiare. C'è questo luogo. Io non pensavo neanche che potesse esistere un luogo così. Ecco, pensate quindi quante cose che ci sfuggono nella nostra esistenza quotidiana, fatta da mille impegni, da mille cose, da tempo che vola, e magari non ci rendiamo conto che accanto a noi c'è qualcuno che ha davvero bisogno del nostro aiuto. Grazie Flora. Prego, grazie a te. Grazie. Valeria, siamo fuori quindi dall'ufficio dove c'è tutto ciò che riguarda la distribuzione alimentare. Abbiamo conosciuto le persone che danno vita a questo reparto così importante per Gulliver. ci hanno trasmesso davvero tanta tanta emozione e ci hanno fatto comprendere come questo ruolo che poi Gulliver svolge sul territorio sia davvero importante perché ci sono dietro famiglie, ci sono dietro persone, ci sono dietro situazioni che neanche ci immaginiamo che esistano. Certo, condivido quello che mi stai dicendo anche perché dietro alla distribuzione dei pacchi alimentari ci sono infinite storie e come dicevano le ragazze collaboratrici di tutto il mondo. Diciamo, partiamo dalla raccolta alimentare quindi meno inquinamento, recupero, diciamo comunità ideali di tanti paesi e il concetto è molto grande quindi passiamo da una raccolta razionale all'emozione che i nostri collaboratori, come dicevano, vivono nell'accogliere questo popolo del mondo dove comunque ognuno ha le proprie emozioni perché anche venire a prendere, ritirare un pacco alimentare comunque c'è la dignità, può esserci la vergogna, c'è un'emozione diversa perché ti senti diverso nel momento in cui prendi una passata di pomodoro che magari costa qualche centesimo però loro non ce le hanno questi centesimi e quindi è tutta una situazione di mille sfumature e oltre poi al pacco alimentare ogni componente di famiglia può prendere quattro abiti in omaggio per ogni stagione che siano maglie, scarpe, hanno bisogno di una lavatrice, hanno bisogno di un mobile, noi siamo pronti ad accoglierli e fare la distribuzione e i nostri ragazzi fanno anche le consegne e quindi diciamo le persone sono curate in tutte le loro esigenze quindi da una passata di pomodoro a una lavatrice, un mobile, un gioco, un paio di scarpe perché comunque non dobbiamo essere diversi cioè anche se il destino ci ha riservato una vita diversa ma quella vita non deve essere diversa quindi il nostro compito, la nostra raccolta, la disponibilità dei nostri collaboratori che agiscono e aprono le braccia al mondo noi abbiamo vinto e quindi Gulliver, progetto riuso è questo ecco perché io sono qui nel parlare al cittadino, a Pesaro a invitare diciamo il cittadino a venirci a trovare se vogliono fare un'ora di volontariato quello che vogliono anche un quarto d'ora qui le porte sono aperte a tutti tutti siamo uguali non ci sono diversità e questo senso forte deve uscire oltre all'oggetto che uno può prendere a modico prezzo e quello che dicevo il bottegone dell'usato con le altre due sedi che abbiamo in Pesaro servono per raggiungere l'obiettivo l'obiettivo qual è? essere tutti uguali e quindi per me Gulliver è il massimo progetto riuso e qui tutti insieme facciamo gruppo e l'ho anche dimostrato l'emozione delle collaboratrici quando venivano insomma intervistate quindi grazie di averci dato questa possibilità di parlare alla città di Pesaro grazie Valeria un oggetto una confezione di pasta sono cose che possono sembrare piccole sono cose che possono sembrare quasi per molti non diciamo inutili ma poco ci manca invece qui dietro c'è un'umanità incredibile c'è un'umanità che fa capo e che cerca una soluzione come questa per affrontare la vita in maniera semplicemente migliore dignitosa e paritaria grazie Valeria Gianni grazie a voi grazie a voi carissime amiche carissimi amici per essere stati anche questa sera con noi su Rossini TV continuate a restare sul canale 80 del digitale terrestre buona serata davvero grazie a voi